Ed eccoci siamo tornati in studio siamo come sempre ad Angoli per chi non fosse stato in collegamento con noi dall'inizio del nostro appuntamento vi ricordo come restare in contatto con la nostra redazione molto semplicemente basta scrivere una mail al nostro indirizzo di posta che è angolichiocciolaespansionetv.it in questa seconda parte del nostro appuntamento un grande sportivo un personaggio insomma che per noi è davvero un grandissimo piacere avere qui perché tra poco ci sarà una grande occasione per lui ringrazio Jacopo Cerutti per essere qui con noi grazie a voi buona serata a tutti ciao Jacopo davvero grazie hai trovato il tempo in questo periodo di preparazione per te perché tu sei pilota di rally ride e tra poco sei in partenza per dove sono in partenza per la mia terza Dakar che da quasi dieci anni si corre non più in Africa ma in Sud America e sono in partenza per il Perù perché quest'anno faremo un percorso da nord a sud quindi Perù Bolivia e poi Argentina quindi insomma una grande gara quella che hai davanti a te come ti stai preparando mi sto allenando tanto fisicamente sarò spero pronto anche mentalmente a sopportare quei 15 giorni che sono un po' una lavatrice ci si sente sballottati tantissimo e mi sto allenando tanto mi sto preparando e speriamo che vada tutto bene quanto è importante visto che l'hai sottolineato tu Jacopo la preparazione fisica sportiva immagino anche con una grande centratura insomma emozionale si è importantissimo essere a posto fisicamente perché quella è la base però se non si è convinti di farcela mentalmente se non si è pronti affrontare tutto quello che la Dakar ci mette davanti che il più delle volte sono tante incognite e non è facile arrivare al traguardo anche se si è allenati tantissimo tu hai già una prova in questa gara di qualche anno fa nella quale comunque sei arrivato molto bene e quindi come ti immagini avendo già avuto un'esperienza che potrai affrontare meglio quelle che sono per esempio le difficoltà principali di questa gara? Sì io avevo finito dodicesimo assoluto nel 2016 al mio primo anno l'anno scorso purtroppo ho avuto un piccolo infortunio però sono so cosa mi aspetta so le difficoltà del percorso sarà molto difficile in Perù come proprio come tipologia di percorso con tante dune queste difficoltà principali in Perù le dune la sabbia saranno le difficoltà principali in Bolivia c'è sempre l'incognita del meteo e poi fa di solito freddo e siamo sempre sui 3-4 mila metri e in Argentina il caldo oltre al percorso impegnativo c'è un caldo che a volte passa i 40 gradi quindi quello è senza dubbio l'ostacolo più difficile Quindi mamma mia Jacopo davvero è davanti a te una grandissima prova mi viene subito da pensare visto che qui insomma le condizioni comunque sono molto differenti da quelle che ci hai raccontato quindi come ti alleni visto che qui forse non lo so non ci sono dei contesti dove si possano incontrare dune caldo freddo Qua è difficile allenarsi mi alleno con la moto da enduro nelle piste di motocross e poi vado tanto via nel senso vado in Marocco a fare o delle gare o degli allenamenti di più giorni perché è il posto più vicino a noi Quindi devi per forza spostarti per raggiungere delle situazioni analoghe Devo sempre spostarmi e il luogo più vicino diciamo al Sud America come tipologia di terreni è il Marocco ed è anche il più accessibile per noi E poi sto spesso e volentieri in Sardegna perché è una terra bellissima per allenarsi anche sono tornato una settimana fa perché il clima è sempre buono Certo E riesco a allenarmi come si deve quindi qua è difficile che sto tanto spesso Quindi sfrutti le dune di sabbia che ci sono in Sardegna Sì un po' di sabbia c'è però magari piste di motocross più che altro lì si può fare davvero di tutto sia con la moto che senza quindi anche il giro in bici o la palestra o tutto quello che circonda non solo il fatto di andare in moto è fattibile con temperature che da noi purtroppo adesso non troviamo Assolutamente Jacopo come inizia la tua passione per questa disciplina insomma per questo sport tu sei molto molto giovane La passione per le due volte dai miei genitori da mio papà che ha sempre avuto la passione e poi dopo da lì o da quando sono piccolo voglio fare il pilota Quindi ti era chiaro nella mente questo volevi fare? Era chiaro era chiaro difficile realizzarlo poi ma col tempo con l'impegno con un po' di fortuna un po' di doti sono riuscito a fare della mia passione il mio lavoro e adesso posso dedicarmi solamente a andare in moto e a fare le gare che mi piacciono che mi danno più soddisfazioni e mi impegno al 110% Jacopo questo è l'unico sport che ti appassiona che ti affascina o comunque ti dedichi anche ad altre discipline? Ma 100% mi dedico ovviamente solo a questo però mi piace tanto il ciclismo e sia andare a vedere anche quando vengono qua vicino qualche tappa del Giro d'Italia o il Giro di Lombardia Seguo molto il ciclismo e poi ovviamente d'inverno scio vado a fare sci alpinismo che è anche un ottimo allenamento per noi anche perché magari si arriva anche in quota Quindi simula un po' l'altitudine, le difficoltà, le temperature e tutto quello su cui fa fatica mi piace Senti da quello che racconti tu sembri essere, anzi non solo sembri, sei di fatto una persona molto strutturata, molto determinata In questo senso credi che lo sport sia un modo per crescere oltre insomma che ovviamente alla famiglia che ti sta vicino a tutto quello che è bagaglio formativo Sì assolutamente perché è una scuola di vita incredibile lo sport e tutte le gioie e i dolori che noi proviamo nello sport poi li possiamo anche provare nella vita reale E quindi è una grandissima scuola di vita secondo me lo sport e spero che entri nella testa di tutti i ragazzini, i bambini di magari trovarsi uno sport che gli possa piacere davvero Una passione oltre a non solo cose semplici ma anche una vera passione che li impegni al 100% in cui possono dare il massimo è una grande palestra di vita E questo è un bel messaggio Jacopo, grazie perché insomma il fatto che queste parole arrivino da un ragazzo giovane per i giovani è una bella cosa Quindi grazie davvero per questa cosa che dici ma a questo punto veniamo nuovamente a te e al tuo cavallo, la tua moto insomma Puoi raccontarci ovviamente se non vuoi svelare dettagli tecnici che non vanno svelati non te lo chiedo però con che moto andrai a performare insomma Andrò con una Usquarna 450 Così mi eviti di dirlo perché io sbaglio sempre questo nome, bravo Sarà il terzo anno consecutivo che correrò appunto con Usquarna È una moto da rally proprio progettata appositamente per questo tipo di gare perché loro fanno sia delle moto da enduro con cui mi alleno Sia da motocross che appunto una moto appositamente studiata per la Dakar È una moto speciale con più di 30 litri di serbatoio Con cui noi possiamo selezionare la benzina da utilizzare se è serbatoio anteriore o posteriore In base al bilanciamento che vogliamo avere della moto quindi magari più bassa dietro sulla sabbia Per avere l'avantreno alto oppure al contrario sul terreno duro Possiamo scegliere un po' come gestire il consumo della benzina Gomme Michelin Desert quindi sono gomme che durano almeno i 1000 km della giornata Noi diciamo piloti che puntiamo al risultato tutti i giorni cambiamo assolutamente le gomme E facciamo tutti i tagliandi possibili e immaginabili alla moto ogni singolo giorno Invece magari il pilota che punta più a finirla ha un consumo anche minore di queste parti rispetto a quello che facciamo noi Quindi c'è anche molta strategia nel portare avanti la gara per arrivare al risultato che ovviamente si ha in testa? Sì sicuramente c'è dietro un'organizzazione incredibile In nessun'altra gara che ho fatto anche a livello europeo mondiali di enduro Non ho mai visto un'organizzazione così efficiente anche perché tutto deve essere proprio apposta Perfettamente studiato e perfettamente funzionante perché ogni minima cosa può portare alla catastrofe E poi sono dolori perché sono un impegno abbastanza gravoso Ecco Jacopo io immagino sicuramente che tu abbia un team, un gruppo di persone insomma che ti stanno accanto Come si sviluppano le collaborazioni, che rapporti si creano per insomma essere davvero molto compatti Perché ce l'hai detto poco fa una piccola sfumatura, una piccola disattenzione può creare una catastrofe Quindi il mancato raggiungimento dell'obiettivo, quindi è importante essere coesi, essere insomma sempre sul confronto In Italia corro con un team di Varese CF Racing, mentre per le gare africane, tra virgolette anche se la Dakar non è più lì Corro con un team della Repubblica Ceca per questioni logistiche perché è impossibile per un team solo effettuare sia gare nazionali che internazionali Sono proprio due strutture diverse, sempre con Usquarna e con questo team MRG che è il team con cui correrò la Dakar Sono due anni che lavoriamo insieme quindi c'è un ottimo affiatamento e bisogna per forza essere d'amore, tra virgolette d'amore e d'accordo Soprattutto con il meccanico, infatti quest'anno ci sarà un meccanico italiano con me Quindi un amico che parla la stessa lingua con cui mi trovo bene, sarà più facile dialogare, sarà più facile avere fiducia reciproca e fare un buon lavoro Quindi questo ti aspetti sia un elemento determinante a tuo favore, il fatto di avere vicino un meccanico che parla la tua lingua ma anche con il quale sei insomma già hai un feeling importante È comunque un appoggio in più, fa sempre piacere quindi è chiaro che oltre a mio papà che sarà presente anche il meccanico è una figura importante Perché ogni problema alla moto io meno tempo ci metto a fargli capire e meno tempo lui ci mette a capire il problema e quindi a risolverlo Più io posso pensare al mio, a recuperare, a mangiare, a prepararmi per il giorno dopo e dopo 15 giorni può fare anche un po' di differenza anche questo Certamente, questa è una gara come hai detto se non ricordo male, il 2 gennaio partirai? Partirò sì il 2 gennaio, invece la Dakar inizierà il 5 gennaio con il prologo e il primo giorno di gara effettivo il 6 Fino a tutto? Fino al 20 gennaio Quindi un periodo anche molto lungo nel quale davvero sarete tutti sotto pressione Sì, sono 6 giorni fino ad arrivare in Bolivia, poi abbiamo una tappa di riposo e poi dalla Bolivia fino a Cordoba sono 8 giorni di fila e saranno durissimi perché si partirà in altitudine e si finirà con temperature molto alte quindi sarà sicuramente la seconda settimana sarà dura Jacopo che dirti? In bocca al lupo ovviamente e soprattutto sarebbe davvero un grande piacere per noi qui ad Angoli averti di nuovo quando insomma tornerai perché tu possa raccontarci quello che è accaduto insomma è questa grande esperienza che ovviamente non diciamo nulla Aspetteremo che sia tu a raccontarcela nei dettagli Grazie a voi sarà un piacere tornare e speriamo in bene Bene, grazie Ti fatemi tutti e vi ringrazio Assolutamente, ti seguiremo e saremo con te assolutamente, con Jacopo Cerutti, grazie davvero per essere stato qui ad Angoli E grazie anche a voi che ovviamente come ogni sera è il momento di passare la linea ai colleghi dell'informazione Grazie a tutti